Le iene stuzzicano il grande fratello e fanno le prove del 9 a Massimo e Sara. Ecco, lo sta arrivando. Vediamo se bestemmi ancora. Il barese, impassibile, si è aggiudicato una secchiata d'acqua alle 3 di notte, rimanendo fedele alla promessa di non bestemmiare più. Giusto perché mi stessi impazzio non ti mando ancora un'altra persona, lo sai? C'è un altro po'. La Playmate, invece, è stata protagonista inconsapevole del reality Mortacci Tua. Dove lo ritrovo un troione come questo? Un trattamento, però, che la genonica bionda non ha sembrato gradire. Che hai detto? Ho detto che sei un troione? Che ormai? Che oi la test sopra le note?